E Sarawi può puntare Birindelli, il tocco fuori per Spinazzola, vola di Gregorio, grande intervento del portiere del Monza. Pala però il pallone incredibile a Sanzone, Seppe, arriva Arnautovic, Seppe se la riprende. Lozano dribbling con facilità estrema, poi attenzione a Baraschelli e quindi il sinistro di Di Lorenzo, Super Falcone. Vabbè Rardi, sinistro Mignan, Mignan ha parato il suo primo rigore in Serie A e secondo da portiere del Milan dopo quello di Anfield. Quagliarella la fa sfilare, Quagliarella è il miracolo di Provedel che chiude e mette sopra la traversa, occasionissima per Fabio Quagliarella. Quagliarella, splendida la risposta di Ivan Provedel. Corner che parte ora, Blaubic! Miracolo da parte di Drongoski che salva lo Spezia. Zapata, rubo palla a buongiorno, senza fallo, Zapata è solo, Zapata! Milinkovic-Savic e poi la difesa del Torino recupera. Qui Milinkovic-Savic ha letteralmente ipnotizzato Duvan Zapata. Rientra Zaccagni, il tocco laterale, Felipe Anderson arriva ai sedici, ci riprova! Bo Laudero con le dita in angolo! È bravissimo Emil Laudero a metterla in corner! Parte Colombo! La parata di Meret! Si è fatto ipnotizzare da Meret, il salvagente del Napoli! Mandragora, dalla bandierina va lui ancora, colpo di testa a Silvestri, Saponara! Grande parata di Silvestri! Grazie! Grazie.